Cos'è che ci sarà dietro? Perché questa va tutti i giorni a portare la spesa a quella vecchietta? Gli daranno dei soldi? Magari gli frega la pensione? Dai, chissà cos'è che ci sarà dietro? Cos'è che ci sarà dietro? Cazzo, uno non va a buttare il suo tempo per senza niente, se tutte le mattine, anche con la piova, questo fa attraversare i bimbi degli elementari. Qualche d'uno gli darà pure qualche co. Il sangue? Io dovrei darti il mio sangue a gratis? Dai, chi lo fa? Qualche cosa gli daranno. Cos'è che ci sarà dietro? Ma, claburtela, perché invece di cercarsi il moroso va tutti i sabati al canile? Per me frega la roba e la rivende. Cos'è che ci sarà dietro? Ma, quello perché invece di farsi i cazzo sua e guardarsi il terremoto davanti alla televisione, parte alle due di notte con quelli della protezione civile? Boh, vedrai che di nascosto li allungano quacò. Cos'è che ci sarà dietro? Ma quelle matt, invece di pensare alle sue beghe, che ne ha, sa? Va a preoccuparsi degli altri. Vorrà vendere qualcosa? Cos'è che ci sarà dietro? E io dovrei andare al campeggio coi preti a far da mangiare? Te purino sei sciocco? Con tutti i soldi che c'hanno i pretaz? Se vengo a sapere cosa c'è dietro? Cos'è che ci sarà dietro? Delle robe ci sono dietro? Delle robe che pagano! Si chiamano umanità, riconoscenza, per il dono della vita e soprattutto cuore. Se voi pensate che il cuore serva solo da pompa idraulica, non capirete mai cos'è che c'è dietro di Roberto Casadei.